io ti faccio caccia pia io ti faccio caccia pia fai un minuto qua un minuto qua di ripresa fermo però senza far gioco gioco cioè dopo devo andare pure di là lo devo spostare se non ce la puoi andare a guardare se non ce la puoi andare a guardare non ce la puoi andare a guardare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.